Musica Musica Erano sparsi un po' dappertutto qui sui nostri monti, erano arrivati a 10.000 persone, quindi il comandante, il comandante in capo di tutto era Bullock, Bulldreni, ha deciso di sganciare una parte di questi partigiani, di farle passare le linee sopra Forlì, sono partiti quanti arrivati sopra Forlì, le truppe alleate stavano avanzando e sparavano su Forlì, hanno corretto il tiro con i mortai, hanno sparato addosso ai partigiani, hanno avuto dei morti e dei feriti, hanno ripiegato indietro e la notte si sono fermati qui in una casa dei rondinini, una casa padronale per chiedere soccorso, avevano dei feriti, invece di farli andare in casa le hanno sparato addosso. A fine maggio del 45 il zio di mio babbo che era una guardia del corpo dei rondinini assieme a Lorenzo Rondinini sono andati a Riolo a rispondere che avevano venduto un paio di buoi a un macellaio, quando sono arrivati qui da sotto il ponte, questo è il ponte con, sono saltate fuori due persone armate, hanno chiesto chi era Lorenzino, Lorenzo Rondinini, adesso sono io, lei venga con noi e tu vai a casa. Allora oggi facciamo un pezzo di strada che hanno fatto quei due con i rondinini, non si sa, però si sa, le hanno fatti il processo a Montemavro, lo sapevi Conte? Le hanno fatti il processo a Montemavro, dopo 13 anni, poi non si è saputo più niente, dopo 13 anni, ruspavano, mettevano a posto un campo dalle terme di Riolo Terme, hanno trovato un cadavere, l'hanno portato alla scientifica Roma, dall'arcata dentaria e poi aveva ancora il pennino d'oro, lui aveva una stilografica, nel taschino le avevano lasciato anche quello. Era Lorenzo Rondinini, l'hanno trovato dopo 13 anni, ed è sepolto a Santa Lucia, dopo la famiglia è andata in Malora, hanno venduto tutto, erano proprietari di Villa Vessano, quasi tutta la Zettaglia, avevano la fornace prima di arrivare alla Zettaglia, erano imparentati che il Conte Camarino e Porso, gli è in miseria completamente. La giustizia è stata fatta, quindi... A meno le macchine mi passano. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Siamo andati su, siamo arrivati in cima, poi siamo andati verso la sella di Ciafaggio, abbiamo girato a destra e siamo tornati di qui. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.